Eccole le opere di difesa dalle esondazioni, le cosiddette paratie del lungo lago di Como, iniziate otto anni fa e mai terminate. Ora, nel corso delle indagini relative agli appalti per la loro realizzazione, due dirigenti del comune sono stati posti sotto custodia cautelare, uno in carcere e uno ai domiciliari. Sono accusati di falso ideologico e turbativa d'asta nell'assegnazione degli appalti per la terza variante al progetto. Ed è solo una parte di una più ampia inchiesta che riguarda anche altre opere pubbliche, che vede indagate una decina di persone e che ha portato in carcere e ai domiciliari anche un imprenditore e un libero professionista. È una cosa incresciosa perché tutto sommato mi spiace anche per l'immagine stessa della città. Che finiscano questo lavoro qua del lungo lago perché è veramente una cosa obbroviosa, cioè non è una bella immagine per i turisti che arrivano a Como. Quando ci sono delle indagini penali nessuno vuole metterci in mano, perché quindi resterà per tempo, tanto tempo così. Il progetto per la costruzione delle paratie era stato approvato nel 1995. I lavori sono iniziati nel 2008. Durata prevista tre anni, ma dal 2012 i lavori sono fermi. Nel gennaio scorso l'anticorruzione ha bocciato l'ultima variante al progetto. I costi sono lievitati, dai 12 milioni iniziali fino agli attuali 33 milioni. Intanto il lungo lago resta un cantiere abbandonato che causa disagio ai turisti e danno economico ai residenti, che hanno inviato al Presidente del Consiglio 80.000 cartoline per chiedere il completamento dell'opera.